Buongiorno da Gardaland Entriamo nella nostra stanza giungla E' la nostra camera Guarda Dai che carini guarda Ci hanno fatto trovare tutta la frutta fresca Da dove ci sono le banane Guarda i dolci Ma guarda Ma fantastico Guarda Gianmarco Anche se non abbiamo niente da giocare Come niente? Gianmarco voleva un gioco Gianmarco Guarda La nostra stanza Gianmarco Guardate Cos'è c'è leggini? Niente Quello è il comodino Niente Gianmarco Gianmarco voleva Quando gli ho detto che c'era una sorpresa Gianmarco pensava ci fosse un gioco Il Zumrun killer è freddo D Angela E' bellissimo Paio Danna M anos L'un puisse E' bellissimo Per E' proprio M Niente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate, siamo qui nell'area Suc, c'è questa piazza e c'è proprio un piosco dove fanno tutto 100% senza glutine. Siamo al ristorante dentro l'hotel, questo è il ristorante Titan Camon e c'è anche il menù per celiaci, quindi è pazzesco perché c'è anche un po' di scelta, tra cui la pizza che è arrivata tutta chiusa, è incelopanata, quindi non c'è rischio di contaminazione, nulla. Buongiorno! Guardate che anche oggi per colazione hanno portato a Gianmarco, abbiamo finito a poco, ecco, tantissime cose, biscotti, gallette di ogni tipo, merendine. E adesso si sta mangiando un plum cake. No! No? Che cosa stai mangiando? Un plum cake è quello? La banana. Anche la banana si è mangiata. Allora, seconda giornata qui a Gardaland, oggi è lunedì, adesso ci siamo, vabbè, abbiamo fatto colazione, tutto, adesso andiamo a prendere l'autobus, il plumino che fa il transfer da l'hotel al parco, che comunque è qui a 5 minuti, e alle 10 e mezza abbiamo l'incontro con tutti i ragazzi di Giuseppo, ci saranno altre ragazze, altri bimbi, quindi oggi passiamo una mezza giornata insieme a Giuseppo Kids. Oh, è una fata! Sì, è un punto, per ora andiamo a un ristorante, quindi insomma, siamo riusciti a non prenderci il diluvio e il riversale, adesso l'ho smesso, proviamo a fare ancora qualche giochetto e poi ce ne torniamo a casa. Giornata finita, adesso siamo, tipo, da 40 minuti, ragazzi, sul serio alla ricerca della macchina, perché il parcheggio è immenso e Giacomo non si ricorda più dove l'abbia messo, quindi questo è un grosso problema. Noi gli abbiamo dato su e ci sono formati qui, c'è una panchina da aspettare notizie, lui sta cercando la macchina, ma tra un po' inizierò a preoccuparmi, ma no, è ancora lì che giro, ragazzi. Bene, speriamo di riuscire a tornare a casa, ho voluto portarvi con noi anche questo weekend, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo, forse se torneremo mai in quel video.